è quella di fare qualcosa di utile per le persone che stanno peggio di noi noi musicisti, artisti a vario livello abbiamo un dono non è nemmeno tutto merito nostro nasciamo con un dono e a noi sta il compito di metterlo a frutto ci sono altre persone che non hanno la possibilità pur avendo ricevuto infiniti doni di metterlo a frutto nulla perché stanno in delle condizioni che non permettono loro e null'altro al di là di pensare a vivere la giornata sopravvivere e arrivare alla giornata successiva quindi sono stato felice di partecipare a questa serata innanzitutto perché mi sento utile per queste persone